Come ti chiami? Giovanni Maria Quanti anni hai? Quattordici Tredici In quale cantiere vivi? Bagnoni Cavalleggeri Quando esci con gli amici dovevi incontrare? Al Pontino Nel Giorgio E' d'accordo con i progettori? Certe volte Abbastanza Descrive il tuo giornale ideale Il mio giornale ideale è trascorrerla con tutti i miei amici e andare a cena con tutta la mia famiglia L'immagine del ideale è venire qui in educativa e andare da me a dire fine settimana Hai amici stranieri? Sì, lui si chiama Dario ed è colocchio No Con una parola di scrivere adolescenza È difficile E' allegria È conflitto È innamorare È l'amicizia È crescere È complicato È compagnia È solitudine È emozionarsi È energia È magico È magico È vitalità È funzione È affassionarsi È ormortizzata È Walker È tow funding È 43 È amici È hoping È ormai È viviamo È rompiti È amici Èiyim È um È felic shout È emba Grazie per la visione!